Al via domani l'esame di maturità, anche quest'anno a causa del covid sarà un'unica prova orale con la discussione di un elaborato, un passaggio importante nella vita di studenti e di insegnanti. Riaperte le iscrizioni per la celebrazione d'ingresso del Vescovo Devasini, sino a giovedì è possibile prenotare un posto in Piazza Nostra Signora dell'Orto, iniziata la distribuzione dei primi pass. Sopraluogo del sottosegretario Andrea Costa, la Basilica dei Fieschi di Cogorno, l'edificio storico ha bisogno di un intervento di messa in sicurezza, necessario quasi un milione di euro. Il volontariato non conosce crisi anche nella pandemia, nel 2020 sono stati 368 i colloqui di orientamento effettuati al Celivo di Genova, i dati del bilancio sociale in si può dare di più. Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Dunque domani iniziano gli esami di maturità e sono oltre un migliaio nel Tiguglio gli studenti che dovranno affrontare nei prossimi giorni il maxi orale. Un passaggio importante sicuramente per i ragazzi e per la loro vita, ma anche per gli insegnanti quest'anno ancora una volta di più dopo centinaia di ore di didattica a distanza. Cosa dicono allora i professori e gli studenti? Sentiamo. Che questo esame di maturità sia davvero il trampolino di lancio per realizzare i propri sogni. Sarà un esame ancora una volta diverso anche per chi siede dall'altra parte della cattedra e non per questo meno difficile. Chiamati a racchiudere in un voto o in un giudizio finale le storie e il vissuto di ciascuno degli studenti e delle studentesse che si è visto e si è accompagnato a crescere durante questi anni è una responsabilità grande e anche un'opportunità da non sprecare. Vedere dal vivo quei volti che per gran parte dell'anno sono stati racchiusi in tanti quadratini in uno schermo, in un momento di passaggio com'è l'esame di maturità, rappresenta un'emozione che non ha niente di diverso da quella provata da chi invece è chiamato a sostenere la prova anche quest'anno con la discussione dell'elaborato durante il maxi orale. Cosa dire loro in queste ore che precedono l'inizio della maturità 2021? Per prima cosa essere se stessi, non cercare di inventarsi e poi vivere questo momento con fiducia, coraggio, forza ma anche umiltà. Nei passaggi importanti non abbiamo tutto facile, non abbiamo tutto a disposizione. Nei passaggi importanti probabilmente la sensazione è che ci manchi molto di più di quello che abitiamo e questo vale per tutti, i ragazzi devono sapere che questa non è una condizione semplicemente individuale, è una condizione universale e quanto più una persona intelligente, secondo me, tanto più è consapevole di quello che gli manca, non è certo di tutto quello che sa, è consapevole di quello che gli manca. Poi qualche cosa, ovviamente, nel percorso si è cercato di capire, di guadagnare e l'umiltà è molto importante perché ci aiuta a non enfatizzare in una maniera sbagliata quelli che possono essere i nostri punti di forza, ma allo stesso tempo ci permette di metterli in evidenza, di fare in modo che possano essere apprezzati. Riaspettiamo con gioia i ragazzi che sappiano che sono attesi e che si sta lavorando assolutamente per accoglierli. In diocesi sono giorni di attesa in vista dell'ingresso del nuovo Vescovo. Domani sera, alle 20.45, nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, Monsignor Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara e Teologo, terrà un incontro dal titolo Dov'è la Chiesa? La Comunità Cristiana e il suo Pastore. È possibile partecipare in presenza in Cattedrale. Da oggi sono riaperte le iscrizioni per la Messa di Domenica alle 17 nella Cattedrale Chiavarese. Sono ancora disponibili alcuni posti sul Sagrato della Chiesa mentre è iniziata la distribuzione dei pass a quanti ne abbiano fatto richiesta la scorsa settimana. C'è ancora possibilità di partecipare al rito d'ingresso? Sì, abbiamo deciso di prolungare la possibilità di prenotarsi per poter partecipare alla celebrazione in piazza. Non è più attivo il cellulare che avete visto sui manifesti che sono affissi nelle parrocchie in giro per le città più grandi della nostra diocesi. È invece attivo il numero della curia, il centralino, lo 0185 59051 al quale potrete telefonare dalle 10 alle 12 a partire dal martedì fino a dopodomani, giovedì. In questa fase potrete segnalare la vostra presenza e vi verrà spiegato come potrete andare a ritirare, come e dove potrete andare a ritirare i pass. Nel frattempo chi avesse già prenotato può invece iniziare a ritirare i pass. In che modo? Esattamente, chi ha prenotato la scorsa settimana, chiamando appunto al numero di cellulare il proprio pass, può andarlo a ritirare. Questa mattina c'è già stata la prima fase di ritiro dalle 10 alle 12 e la prossima sarà giovedì prossimo dalle 17 alle 19 nei quattro punti di distribuzione che sono stati individuati all'interno della diocesi. È importante essere presenti a questo momento? Certamente, nel senso che la settimana scorsa abbiamo salutato il nostro Vescovo Alberto e quindi credo che con un senso di gratitudine e con lo stesso senso di gioia dobbiamo, sento che siamo tutti chiamati ad accogliere il nuovo Vescovo. Per cui l'appuntamento di domenica prossima, ci tengo proprio a dirlo, non è un appuntamento istituzionale al quale partecipino rappresentanti di associazioni particolari. È un momento proprio per tutti, per tutti i fedeli. La Basilica dei Fieschi a Cogorno ha bisogno urgente di restauri. Due lotti in cui è stato suddiviso l'intervento complessivo che costerà in tutto circa un milione di euro, cifre ingenti, soprattutto per quanto riguarda il secondo lotto di lavori di messa in sicurezza, per i quali ha assicurato il suo interesse il sottosegretario Andrea Costa, che domenica ha effettuato un sopralluogo proprio all'interno dell'edificio Sacro. Siamo di fronte a un'opera d'arte straordinaria, che non è solamente importante per il Comune di Cogorno, ma per l'intero territorio, per l'intero Liguria e dico per l'intero patrimonio nazionale, perché tutelare le nostre opere d'arte significa tutelare le nostre radici, la nostra storia, le nostre testimonianze. Quindi certamente occorre porre attenzione, occorre creare le condizioni affinché queste opere siano tutelate e salvaguardate. Quindi da parte mia certamente la massima disponibilità per farmi da interlocutore, per creare i presupposti e le condizioni affinché vengano fatti i lavori necessari, affinché un'opera così importante sia mantenuta nel tempo, non solo a noi, ma a chi verrà dopo di noi. Ci sono i margini finanziari, gli spazi finanziari dove andare ad attingere queste risorse? Ma oggi siamo di fronte nel nostro paese dove certamente io credo il tema delle risorse forse è il problema minore, nel senso che le risorse ci sono e si tratta di investirle bene, si tratta di individuare le giuste priorità e credo che tutelare e salvaguardare un'opera come questa rientri appieno nelle priorità. Quanto servirebbe? Quanto chiedete? Ma noi i lavori sono divisi a lotti, è un primo lotto che è quello della messa in sicurezza, potrebbe essere sui 100-150 mila euro ed è importante farli subito per poter rendere agibili. Poi c'è tutta la parte di consolidamento che è importantissima che si aggira sui 700 mila euro, di conseguenza siamo all'incirca sul milione. Il sottosegretario ha assicurato comunque l'interessamento, è un buon segno questo? Sì, è un ottimo segno, mi ha colpito molto il suo interesse, non era mai stato qua e quindi anche adesso in un colloquio un po' più personale, così che abbiamo avuto, si è reso conto dell'importanza di un luogo come questo, anche perché oggi abbiamo fatto un po' di parole, però ci sono stati dei momenti anche nei quali si è respirato il silenzio che la Basilica dei Fieschi offre e quindi è stato molto colpito anche da questo. Il Consiglio regionale della Liguria ha osservato questa mattina un minuto di raccoglimento per condannare la violenza contro due giovani donne vittime di violenza nei giorni scorsi nella nostra regione. Il presidente dell'Assemblea legislativa Ligure, Gianmarco Medusei, ha ricordato Sharon Micheletti, uccisa domenica a Ventimiglia dall'ex compagno, e Alessandra Piga, aggredita dal marito sabato scorso a Castelnuovo Magra. Medusei ha assicurato l'impegno dell'Assemblea per sostenere lo sforzo e dare vita ad una vera e propria educazione dei sentimenti che sia profondamente ancorata alla cultura dei diritti. Di queste le sue parole ogni femminicidio, aggiunto, è un attentato a quei diritti fondamentali posti alla base della società, diritti evidentemente non ancora pienamente realizzati. Al termine dell'intervento il presidente ha ricordato anche Camilla Canepa, la studentessa diciottenne di Sestri Levante, morta pochi giorni dopo essere stata sottoposta alla somministrazione di un vaccino anti-Covid. Nella puntata di Si può dare di più in onda questa sera si parlerà del bilancio sociale presentato dal Celivo, il centro dei servizi al volontariato di Genova, facendo il punto sulle attività che sono state portate avanti dal gruppo ospiti della trasmissione Simona Tartarini, direttrice del Celivo, Maria Giulia Pastorino, responsabile della promozione del volontariato e Giorgio Morando, volontario. Un'anticipazione. La pandemia non ha fermato il volontariato, né testimonianza il bilancio sociale 2020 redatto dal Celivo, il centro di servizio al volontariato della città metropolitana di Genova. Nell'anno, segnato da profondi mutamenti sociali ed economici, si sono registrati 521 annunci di ricerca volontari, a fronte dei quali sono avvenuti 368 colloqui individuali di orientamento al volontariato. Di cui la maggior parte giovani sotto i 30 anni che si sono messi a disposizione in questo periodo particolare per poter andare a supportare le iniziative delle associazioni in quella fase del lockdown e di emergente. L'attività di formazione è stata promossa anche nelle scuole attraverso 40 incontri a distanza e la formazione di 1.500 studenti. A questi si aggiungono gli incontri delle reti tematiche col forum del terzo settore e Regione Liguria. Le consulenze totali sono state 2.908 a consolidare la mission che il Celivo sta portando avanti da 20 anni. Questo è stato un anno estremamente difficile. Il bilancio finale per noi comunque è positivo perché grazie alle strumentazioni tecnologiche siamo riusciti comunque a garantire a distanza i servizi gratuiti sia alle associazioni sia ai cittadini interessati al volontariato. Il Celivo è organizzato e promosso 60 corsi favorendo la formazione di 1.274 nuovi volontari. Il bello di essere un volontario è di sapere di fare qualcosa di importante, di utile per chi è meno fortunato di noi, di molte persone che soffre, che ha del disagio e che quindi ha bisogno del nostro aiuto. Quindi è un qualcosa che ha oltre che una sua importanza una cosa molto gratificante anche per una persona in grado di farlo ovviamente. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo per tutti gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola il ritorno della Nato. Biden infatti rilancia l'alleanza e compatta l'Europa. Cina e Russia portano gravi minacce alla sicurezza, dice il capo della Casa Bianca. Draghi allargare l'attenzione anche al Mediterraneo. Il presidente americano poi vede Erdogan e Pechino replica duramente soltanto retorica feroce. Su AstraZeneca ancora incertezze, casi ai minimi nell'Italia bianca. La variante Delta invece preoccupa Londra che posticciva il ritorno alla normalità per il 19 di luglio. Domani seconda maturità ridotta per il Covid. E poi ancora arde a tante domande su armi e salute mentale. La tragedia dei bimbi uccisi nella località laziale. Poi Israele, Benete e Premier. Ma Netanyahu in marcia contro il governo. Zennaro, imprenditore italiano in Sudan, ha gli arresti ma ora finalmente è in albergo, quindi fuori dal carcere. E poi c'è il messaggio per la giornata mondiale dei poveri. La forte denuncia del Papa. Francesco, democrazia a rischio. Se ignora i poveri, la miseria non è frutto del destino ma una conseguenza dell'egoismo. Veniamo sempre su Avvenire nella pagina di Cattolica che riporta anche le parole del Papa all'Angelus di Domenica. E troviamo una notizia che riguarda il nostro territorio. Chiavara, infatti, Brambilla guida la riflessione sulla comunità cristiana e il suo pastore. L'incontro in cattedrale in preparazione alla venuta del nuovo vescovo Monsignor De Vazzini. L'appuntamento è per domani alle 20.45 nella cattedrale Nostra Signora dell'Orto con il vescovo e vicepresidente della CEI Brambilla e sulla sua meditazione sulla comunità cristiana e il suo pastore. Andiamo invece adesso sulla prima pagina del secolo XIX. Liguria cambia il calendario per le vaccinazioni. Vaccino anticipato per 10.000. Intervista con il ministro Speranza che dice il mix di farmaci funziona. Spero che entro luglio finisca lo stato di emergenza. E poi ancora sulla prima pagina del secolo Camilla. L'indagine punta sull'allarme ignorato per le piastrine basse. Si parla sempre della morte di Camilla Canepa di Sestri Levante. E poi un'altra morte, ma dovuta a tutt'altro motivo, un femminicidio, quello avvenuto a Ventimiglia. La morte di Sharon Micheletti. La procura è un caso imprevedibile. Tre denunce cadute nel vuoto dietro l'omicidio. Ci sarebbero stati tre allarmi inascoltati, l'ultimo dei quali il 31 maggio, 14 prima che Antonio Vicari uccidesse a Ventimiglia la ragazza. E poi ancora dalla prima pagina del secolo, da Sanremo a Genova, la vera riscopre la giraglia. Ad Ardea invece parla la madre dei bimbi uccisi, gli spari, le urla. Così ho visto i miei figli morire. Sempre all'interno del secolo, ma nelle pagine del Levante, tari e sostegni alimentari. Arrivano i soldi dallo Stato ai comuni. Rappallo e Chiaveri fanno la parte da Leone, ma restano nel limbo 40 milioni. I vinai del Lanci, un fatto che ha dell'incredibile. Apporto fino a 52 mila euro di sgravi per le attività costrette alla chiusura. Utenze domestiche e attività. Si studia come erogare i fondi. I comuni chiedono chiarimenti sulle possibilità di utilizzo delle risorse. Terminiamo con Santa Margherita Ligure. Chiede permesso. Giovani lo colpiscono con calce e pugni. Il pittore è aggredito in pieno centro a Santa Margherita. Si tratta di Dorino Vicini, che è stato anche candidato a sindaco in una elezione di qualche anno fa. È presidente dell'associazione Gente di Liguria. Dice, sono all'ospedale con quattro costole rotte. Mi hanno scaraventato a terra. Tutto per aver chiesto permesso è accaduto durante la partita tra Italia e Turchia in un vicolo stretto di Santa Margherita Ligure, preso ad assalto dai giovani che volevano vedere il match. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Manuela. Buongiorno a tutti. Parliamo di vaccini perché da questa mattina le persone che hanno prenotato nelle scorse settimane e la prima dose di vaccino anti-covid stanno per essere contattate, se non è già stato fatto, dal call center di Regione Liguria per anticipare e dare loro la possibilità di anticipare la somministrazione. L'obiettivo è quello di mantenere il target di somministrazione assegnato alla Liguria dalla struttura commissariale anche a seguito delle sovravenute indicazioni riguardanti l'utilizzo di vaccini a vettore virale. Per questa operazione saranno impegnati inizialmente 15 operatori che diventeranno 50 nei prossimi giorni. Si prevede complessivamente di contattare circa 10.000 persone in una settimana per riprogrammare e anticipare gli appuntamenti. È tutta della linea. Grazie. Nel campionato di pesca alla carpa, organizzato da Garbolino Fima Chiavari all'impianto del Lago della Fiora di Massa, la seconda prova è stata vinta da Alberto Cordano con oltre 21 kg di carpe, secondo Enrico Botto con quasi 20 kg di pescato, terzo Alberto Co con poco più di 12 kg. A fare la differenza sono stati proprio Cordano e Botto che sino all'ultimo minuto erano affiancati a pari peso. Nella classifica generale conduce Botto con sole tre penalità, secondo posto assoluto per Co, terzo gradino del podio per Cordano. Gergo Zalanchi è il nuovo giocatore della Prorecco. Il mancino ungherese, nato il 26 febbraio del 1995, arriva dal Ferenkvacos, squadra con cui ha militato nelle ultime due stagioni. Campione d'Europa in carica, con la sua nazionale, il primo grande colpo di mercato piazzato dal presidente Maurizio Feluco. Zalanchi è già stato in Italia diverse volte e si è detto onorato di poter indossare la calottina bianco-celeste. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi, la prossima andrà in onda, come sempre, alle 19.15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie.